Bentornati all'appuntamento settimanale con TG Tech, vediamo quali sono le notizie più importanti di questa settimana. Sony lancia in Italia il servizio di video delivery per PS3 e PSP, l'ebook reader Samsung S60 disponibile da giugno, HTC Wildfire completo ma attento ai costi, Google stop alla vendita online del Nexus One, design custom e diversificazione anche tra le schede AT Radeon. A partire da oggi è possibile accedere al nuovo servizio di video delivery per Sony PlayStation 3 e PSP. Si tratta di un servizio che consente di acquistare o noleggiare film in standard o alta definizione. In un evento che si è svolto ieri sera a Milano Sony ha presentato tutte le caratteristiche del servizio, per noi c'era Rosario Grasso. Vi chiedo innanzitutto quali sono le caratteristiche principali del servizio che Sony sta presentando questa sera? Finalmente è arrivato anche in Italia il servizio di video delivery per cui si può fare il download di tantissime film da una lista che ne comprende più di 200 ma che aumenterà di settimana in settimana, tutti i più grossi successi anche molto recenti e qualche grande successo di catalogo di film di tutte le major americane al momento e tra poco stiamo contrattando anche per avere i titoli locali italiani, quindi tutti disponibili da casa propria attraverso PlayStation 3 per il download, noleggio oppure per l'acquisto. Tutti i film saranno disponibili sia in standard definizione che in alta definizione? Quello dipende dalla disponibilità che c'è, ovviamente sono alcuni che non hanno alta definizione ma la maggior parte di quelli che sono anche in alta definizione saranno disponibili anche in alta definizione. Nei prossimi giorni sarà online il resoconto completo dell'evento. Avevamo incontrato il nuovo ebook reader Samsung E60 già qualche tempo fa ma in settimana si sono avuti nuovi dettagli sulla commercializzazione in Italia. Lo ricordiamo si tratta di un ebook reader con display da 6 pollici e tecnologia e-ink. Indirizzata al risparmio energetico e alla piena leggibilità, quasi come su carta. Sul nuovo ebook reader sarà possibile visualizzare libri in formato ePub ma anche contenuti TXT e PDF. Per il download dei contenuti l'e60 è dotato di una connessione wifi utilizzabile solo però per la connessione allo store e non per la navigazione web o altro. In alternativa, per caricare contenuti è possibile utilizzare la connessione USB. Basato sul sistema operativo Linux, il nuovo ebook reader di Samsung ha una memoria integrata da 2 GB e 256 MB di RAM. Dal mese di giugno sarà in vendita 349 euro e sono previste collaborazioni con alcuni degli ebook store più importanti, tra cui Dea Store e IBS. La fascia media dei cellulari è quella che ultimamente riscuote più successo, trainata soprattutto dagli acquisti dei giovani interessati ad avere cellulari di prezzo contenuto ma dotati di tutte le caratteristiche importanti, ad esempio per la vita sui social network. Con la sua ultima proposta HTC si indirizza proprio a questo pubblico. Stiamo parlando di HTC Wildfire, piccolo smartphone full touchscreen con display da 3,2 pollici e risoluzione QVGA, dotato di interfaccia HTC Sense e dedicato agli amanti del social networking. Lo smartphone offre connettività HSDPA Wi-Fi e integra GPS con assisted GPS. Nella direzione del contenimento dei costi vanno l'adozione di un pannello di tipo tradizionale non AMOLED come i top di gamma, la presenza di una piattaforma Qualcomm con CPU a 528 MHz e la mancanza del supporto HSU-PA. Il resto della dotazione di serie invece è di spessore. Troviamo fotocamera da 5 megapixel con LED, sistema operativo Android 2.1. Al momento non è stato ancora comunicato il prezzo ufficiale per il mercato italiano. Con Nexus One Google aveva fatto il suo ingresso diretto nel mercato dei cellulari con due obiettivi chiari. Da una parte portare una ventata di innovazione nel campo dei dispositivi dotati di Android e dall'altra rendere facile l'accesso a uno smartphone per tutti. Si può dire che nel primo caso il colosso di Mountain View abbia colto nel segno, mentre dal punto di vista dello store online i risultati non sono stati quelli attesi. A questo proposito Andy Rubin, vicepresidente della divisione Engineering di Google, ha dichiarato. Lo store online è rimasto un canale di nicchia per pochi utilizzatori, ma è chiaro che a molti utenti piace provare il telefono prima di acquistarlo. Google ha quindi deciso di cambiare strategia e ha avviato i contatti per distribuire il Nexus One anche sui canali tradizionali. In chiusura un interessante preview di prodotto. Lascio la parola a Paolo Corsini. Con il debutto delle prime schede video Nvidia basate su architettura fermi abbiamo notato la diffusione di nuove schede video basate su GPU AT Radeon della serie 5800, soluzioni che si diversificano da quelle già presenti in commercio perché sono basate su design differenti. Questo è il caso della scheda video Asus Matrix 5870 Platinum, soluzione che appartiene alla famiglia Republic of Gamers e che si differenzia in modo abbastanza tangibile rispetto al reference design per alcune soluzioni particolari. In primo luogo la dotazione di memoria video che è pari a 2 gigabyte, quindi doppio rispetto al reference design. In secondo luogo frequenze di clock incrementate sia per la GPU che in misura minore per la memoria video. In terzo un design completamente originale nel quale troviamo due connettori di alimentazione a 8 pin, nel quale troviamo punti di derivazione per le tensioni di alimentazione specifici, quindi attraverso un multimetro digitale, molto utili per coloro che desiderano overclockare ulteriormente questa scheda e la presenza nel pannello posteriore di una connessione HDMI, di una connessione DisplayPort e di una tradizionale di VI. Un prodotto di questo tipo è destinato agli utenti appassionati che diciamo non sono soddisfatti delle prestazioni di default delle schede 5.870, indubbiamente già di livello molto elevato anche a risoluzioni massime. Quindi la possibilità di avere un prodotto che di serie abbia frequenze di clock maggiori rispetto a quelle di default e soprattutto una dotazione di memoria video raddoppiata apre lo spazio a nuovi livelli prestazionali. Un prodotto di questo tipo si pone a diretta concorrenza anche per prezzo con le nuove soluzioni Nvidia GeForce GTX 480, l'attuale top di gamma della casa americana basata su architettura Fermi. A presto per le visore prestazionali direttamente sulle pagine di hardware upgrade. Per questa edizione di TG Tech è tutto, vi rimandiamo al prossimo appuntamento.